Ancora violenza selvaggia in città. Un giovane sulmonese sarebbe stato massacrato di botte nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana in pieno centro storico tra la villa comunale e il parcheggio di via Volta. Erano circa le 3.30 quando il giovane sarebbe stato raggiunto da una decina di punni in pieno volto da tre uomini di etnia rom che lo avrebbero steso per terra nel vero senso della parola. La vittima a quel punto avrebbe segnalato il caso i carabinieri fatto rientro nella sua abitazione per poi recarsi nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino per sottoporsi alle accertamenti e le consulenze sanitarie che avrebbero spinto i medici nel nosocomio a disporre il trasferimento presso il presidio ospedaliero dell'Aquila. E qui che il giovane stare operato nel reparto maxillofacciale per la grave ferita rimediata sotto all'occhio sinistro ne avrà almeno per 20 giorni ma si tratta di una prognasi provvisoria che potrebbe aumentare fino a 40. La vittima a sporto denuncia querela nei confronti dei suoi aggressori negli uffici del commissariato PS di Sulmona. Stando alla sua versione i tre di cui uno già gravato da precedenti specifici e per il quale pende la richiesta di sorveglianza speciale l'avrebbero preso a pugni al termine di un breve colloquio che si sarebbe reso necessario a seguito di alcune segnalazioni che il giovane aveva ricevuto in ordine a un presunto avvicinamento della sua ragazza. Mi sono avvicinato per chiedere che cosa era accaduto. Pochi secondi ho avuto rassicurazioni tant'è che eravamo pronti per bere anche un drink insieme. Il tempo di girarmi che sono stato brutalmente aggredito, ha riferito la vittima. Gli inquirenti procederanno ad acquisire le telecamere di videosorveglianza collocate nella zona, un'aggressione che appare brutale come quella avvenuta a fine settembre sotto i portici di corso video ai danni di due ventenni. Le forze dell'ordine sono al lavoro per spezzare la catena di atti violenti che peraltro farebbero capo ai soliti noti con cadenza pressoché sistematica e abituale. In un momento già delicato la città non ha certamente bisogno di tali vicende, per questo secondo gli addetti lavori è necessario passare dalla prevenzione alla repressione.